Il capo dell'Agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi, Filippo Lazzarini, ha detto che tutte le attività nel nord della striscia di Gaza sono state sospese e le riserve si esauriranno entro marzo. I filmati diffusi dalle agenzie mostrano uno dei centri sanitari Al Sabra danneggiato dai bombardamenti su Gaza City. Le immagini documentano anche la vasta distruzione della città di Gaza, con oltre il 76% delle infrastrutture civili ridotte in macerie. Lazzarini ha scritto in un tweet che l'ONU ha raggiunto un punto di rottura a causa dell'appello israeliano per la sua abolizione e del congelamento dei suoi finanziamenti proprio quando ne aveva più bisogno. Venerdì almeno 25 persone sono state uccise a Deir al-Bala, nel centro di Gaza, e più di 100 persone sono state uccise negli attacchi israeliani nelle ultime 24 ore. Grazie. Grazie.